Grazie per il gruppo dei liberali e democratici a facoltà l'onorevole Ferovstadt. Grazie Presidente, innanzitutto voglio sostenere quello che hanno detto l'onorevole Weber e Pitella Donald Tosk. Vorrei dirgli che in questo momento, dinanzi ad una tale crisi in Europa, le istituzioni europee devono essere unite, il Consiglio europeo e il Parlamento europeo. E come lei è invitato qui, anche voi dovreste invitarci alle unioni del Consiglio e anche nelle unioni straordinarie per piacere. Primo Ministro Tsipras, benvenuto. Come vede non deve aver paura del Parlamento europeo. All'inizio aveva rifiutato, ma io mi sono detto un così grande democratico come il Primo Ministro Tsipras, che ha paura del dibattito, non può essere. Alla fine lei è venuto. Per la prima volta discutiamo di lei con questo. Non ci sono soluzioni possibili nel caso della Grecia e nel caso della zona euro se non c'è il sostegno della democrazia, se non si discute nella democrazia, se non si discute qui al Parlamento europeo. Ed è questo quello che stiamo facendo oggi. Ma devo dirle questo. Lei ha detto, è vero quello che ha detto, lei ha detto che i greci hanno compiuto sforzi enormi. Ed è vero, ma il problema non è quello. Il problema è che la classe politica greca non ha fatto nessuno sforzo nel caso della Grecia. Questo è il problema oggi. E devo dirle che sono arrabbiato perché lei parla delle riforme, ma non vediamo mai proposte concrete di riforma. E sono arrabbiato perché noi stiamo andando avanti come dei sonnambuli verso il Grexit. Già lo facevamo cinque anni fa, lo sentite, con il sostegno dei rappresentanti dell'estrema destra. E non solo stiamo andando avanti come dei sonnambuli, anzi stiamo correndo nell'ultimo mese verso il Grexit. Ma non siamo noi o voi che pagherete il conto. Saranno i cittadini greci che pagheranno il conto. E devo dirvi che se vogliamo evitare questo c'è solo una soluzione possibile. E lo sa benissimo, l'unica soluzione possibile è che nei prossimi giorni, nelle prossime 48 ore, voi presentate un pacchetto credibile di riforme. Non significa dire, va, voglio porre fino al clientelismo. No, significa che si fa una roadmap con un calendario chiaro, con delle date, delle scadenze per le riforme di cui c'è un disperato bisogno in Grecia. E vorrei dire le cinque cose che dovete fare. E sono anche pronta a venire ad Atene per parlarne con lei, perché a me piacciono queste sfide, con lei direttamente. Ma cosa dovete fare? Innanzitutto, porre fine a questo sistema politico clientelare. Bisogna presentare una legislazione che non esiste. Perché qualche settimana fa, 13 direttori nel Ministero dell'Istruzione, sono stati nominati. Per caso 12 erano del partito Sirisa. E uno non si sapeva l'affilazione. E questa è la realtà. Lei utilizza questo sistema. Lei sta cadendo nella trappola. Anche la trappola del PASOK, che era il grande partito del cambiamento in Grecia, dopo i colonnelli. E hanno utilizzato il sistema clientelare per anni e anni a proprio beneficio. Bisogna ridurre il settore pubblico. Sì, so che è difficile per qualcuno di sinistra, ma deve essere fatto, perché 800 mila persone, dipendenti pubblici, non può funzionare. Lei, Primo Ministro Tsipras, deve trasformare le banche pubbliche in un settore bancario privato. Dovete aprire il mercato, le professioni per i giovani. Non c'è una legislazione. Presenti la legislazione, almeno per aprire 10 professioni che sono ancora chiuse nel vostro Paese. E infine, infine, proponiamo di porre fine ai privilegi nel vostro Paese. C'è il privilegio degli armatori, dei militari, della Chiesa Ortodossa. I privilegi... Sì, ma a voi piacciono i privilegi? Benissimo. A voi piacciono i privilegi? A me no. I privilegi delle isole greche. E non dimentichiamo dei partiti politici nel vostro Paese che ricevono ogni giorno prestiti e soldi dalle banche pubbliche. Anche Sirisa, il suo partito, riceve questi finanziamenti. Quello che le chiedo è di mettere tutto ciò insieme in un pacchetto credibile. Mettetelo sul tavolo adesso, nei prossimi giorni. E sono certo che il versante europeo, l'Alde, sarà pronto a trovare una soluzione per questo. Lotteremo per trovare una soluzione a tutti questi problemi. Ma deve cominciare così. E lei può farlo. Perché non c'è mai stato un primo ministro in Grecia che ha avuto un così forte mandato come lei. Ha anche un doppio mandato. Ha vinto le elezioni e il referendum. Quindi lei, solo in questa posizione, l'unico leader politico in Grecia che può porre fine a questo sistema in Grecia. E gliel'ho detto. Anche noi abbiamo le nostre responsabilità. Noi, io ho il mio parere, per me rapidamente bisogna avere un fondo di redenzione. Questo anche per il Consiglio. Ma innanzitutto dovete presentare il vostro pacchetto di riforme. Non si tratta dell'uovo e della gallina. Lei ha una scelta e questa è la mia conclusione. La scelta è molto semplice. Come vuole essere ricordato? Come un incidente elettorale che ha reso i suoi cittadini più poveri nel loro paese? O vuole essere ricordato il primo ministro Tsipras come un vero riformista rivoluzionario nella tradizione di Cupis e Venizelos. Non parlo del Venizelos del Pasoq. No, parlo del vero Venizelos. Il grande leader tra le due guerre che ha modernato questo paese. Un liberale che ha modernato l'amministrazione. Questa è la scelta da fare. E io so cosa vogliono i cittadini. L'80% dei vostri cittadini vuole rimanere in Europa e nella zona euro. Quindi mostri quello che può fare. Mostri di essere un vero leader e non un falso profeta. Lo faccia.